Ciao amici! Alcuni alimenti aumentano le difese naturali, lo sapevate? Per sostenere il sistema immunitario e sviluppare maggiori difese naturali non bisogna farsi mancare tre cose. Uno, attività fisica, due, buon umore e tre, immunonutrizione. Immuno che si mangia? Se parliamo di cibo sono in prima fila. Immunonutrizione. Esistono degli alimenti che stimolano il sistema immunitario e favoriscono le difese naturali, piccoli alleati nel prevenire i mali di stagione. Oh bene, sono curiosa, sono pronta a prendere nota. Dimmi tutto si muove. Per mantenere sano il sistema immunitario e fronteggiare virus e batteri bisogna mangiare sano e vario e ricordare di portare in tavola alcuni cibi speciali. Pronti per la lista degli alimenti da non far mancare a tavola in questi mesi? Se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine, vi aspetta un regalino. Vediamo gli alimenti e gli elementi. Uno, vitamina C, aumenta le difese immunitarie e ostacola all'ossidazione cellulare. Agrumi, kiwi, verdure a foglia verde e cavolfiore non possono proprio mancare. Due, omega 3. Grazie alle loro note proprietà antinfiammatorie favoriscono anche il metabolismo dei lipidi. Normalizzano la pressione arteriosa e sostengono il sistema immunitario. E allora? Pesce in tavola per tutti, meglio se azzurro. Quale scegliere? Sardine, sgombro, tonno, salmone, ringhe e polipo. Tre, beta carotene, alleato indispensabile per contrastare l'azione dei radicali liberi. Viva l'arancione! Via libera zucca, carote, cachi, peperoni, patate dolci, pomodori. Quattro, zinco e zolfo. Lo zinco favorisce il corretto funzionamento degli ormoni e l'efficienza delle difese. Lo potete assumere con la carne rossa, il tuorlo d'uovo e la frutta secca. Lo zolfo inibisce la crescita dei batteri. Si trova anche nelle crucifere, scalogno e cipolle. Cinque, propoli, un vero elisir grazie alle sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. La propoli combatte le infezioni e rinforza il sistema immunitario. Ad ora in poi solo immunonutrizione per me e la mia famiglia. Farò uno scudo con i cibi che aumentano le difese immunitarie. Oh sì, con tanto verde e arancione. Bene amici, oggi abbiamo visto quali sono i cibi che aiutano a proteggerci dalle malattie. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Il regalino? La lista completa dei cibi per combattere i malanni di stagione. Mangia sano e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali. Grazie a tutti.